Ciao a tutti ragazzi di TecnoAndroid e benvenuti al nostro unboxing del Lenovo Note 8. Innanzitutto vogliamo ringraziare il sito di e-commerce grossoshop.net per averci offerto l'opportunità di testare e recensire questo terminale direttamente sul nostro portale. In questo video vedremo rapidamente l'unboxing con il contenuto della confezione originale, mentre successivamente invece vedremo da vicino il terminale stesso. Lenovo Note 8, conosciuto anche con il nome Golden Warrior, è sostanzialmente il Lenovo A936, quindi se cercate ad esempio su internet lo troverete anche con la dicitura Lenovo A936. Però resta che è il Golden Warrior Note 8, sempre di marchio Lenovo. Confezione standard con cartone riciclato, quindi molto carina sia da un punto di vista estetico che comunque anche di eco-sostenibilità. Vediamo rapidamente alcune caratteristiche tecniche, anche se comunque sono scritte prevalentemente in lingua cinese. Abbiamo un dispositivo che si connette anche in 4G LTE con display IPS da 6 pollici, una fotocamera marchiata a Sony, 2 GB di RAM, 8 GB di memoria interna, processore 64 bit, octa-core con frequenza di clock a 1.7 GHz, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, radio FM, oltre che una batteria da oltre 3300 mAh. A questo punto ora non ci resta che provvedere ad aprire la confezione, che si apre un po' diversa da solito. Qui troviamo un'altra confezione interna che si apre in questo modo. Togliendo questa cover troviamo immediatamente il terminale, che anche se è messo a faccia in giù, eccolo qui. Vedete, display molto ma molto ampio, è più che altro un tablet che sembra quasi un tablet, con sulla parte anteriore nessun tasto fisico. Abbiamo marchio Lenovo, fotocamera e sensori. Qui invece troviamo i tre tasti on screen per aprire il menu, fare un passo indietro o aprire la schermata home. Devo dire che è veramente molto ma molto ampio. Posteriormente invece abbiamo una cover in plastica, plastica liscia al tatto ma non lucida. Vedete che non si vedono le ditate. Con marchio Lenovo al centro, fotocamera posteriore, flash LED e altoparlante per la riproduzione musicale. Posto, a differenza del solito, sulla parte superiore del dispositivo. La cover posteriore. A prima vista vedete che si nota occupare quasi interamente il dispositivo. Anzi, va oltre la parte anteriore. Vedete che, come accade con altri dispositivi di casa Lenovo, anche la 8 Note Golden Warrior, vedete che cosa succede? Va la cover posteriore oltre la cover anteriore. Questo perché dà una sorta di aerodinamicità del terminale. Però per il resto lo rende ancora più ingombrante e ancora più difficile da trasportare. Proprio perché si ha questi 2-3 mm davvero poco, comunque, che va oltre la parte anteriore. La cover, comunque, posteriore è completamente rimovibile. Si può vedere qua che si trova la piccola scanalatura tramite la quale rimuovere tutta la cover. E va detto che, se vedete, si rimuove anche lo spessore. Quindi non solo la parte posteriore, ma anche tutto lo spessore. Oltre a questo, sui bordi troviamo accessione e spegnimento volume. Micro USB e jack da 3.5 mm. Quindi, dotazione standard. All'interno della confezione, realizzata completamente, vedete, in color nero, troviamo, rimuovendo questa parte, troviamo al suo interno tutta la manualistica del caso su come utilizzare il dispositivo. Poi, alimentatore da parete che, acquistando sul grosso shop, provvedono anche a fornirvi il convertitore o comunque adattatore per le nostre prese. Tutto in maniera completamente gratuita. E cavo micro USB to USB per collegare il terminale al computer o comunque ricaricarlo tramite l'alimentatore. Sono assenti le famose cuffiette per ascoltare la musica o parlare in mobilità. Ora non ci resta che provare il terminale e fornirvi una nostra recensione completa.